Vicedomini, Mr. Napoli non è più il tecnico del Talento sorpresi da questa decisione della società? Beh sì, sorpresi, perché comunque io lo conosco da 8-9 giorni, io so qua e a impatto ho avuto una buona impressione sia come allenatore e soprattutto come persona. Una persona onesta che ha sempre fatto bene il suo lavoro, da quello che ho visto, c'è in quel caso delle idee, magari non siamo stati bravi noi sul campo a realizzare quello che ha sempre desiderato lui. Secondo me è l'unico incolpevole in questa bara onda iniziale, che secondo me è anche normale. Nel calcio si sa che funziona sempre così, quando le cose non vanno bene il primo a saltare è sempre l'allenatore, però la squadra non mi sembra esente da colpe, da responsabilità. Sì, è un po' la cultura italiana, diciamo, dalla Serie A alla Serie D, quando le cose non vanno per un certo periodo, prima a pagare è sempre l'allenatore. Io sono un po' contrario a questo, non dico che bisogna mettere sul fuoco i calciatori o l'allenatore, però se una società comincia un progetto o qualsiasi azienda, anche un'azienda normale, il lavoro, deve andare avanti con le sue idee, poi alla fine si decide se la squadra è retrocessa, se un'azienda è fallita. Io la penso così, però alzo le mani davanti alla società o davanti a chi comanda, giustamente. Si è aperto un'altra settimana difficile in vista di una trasferta anche abbastanza complicata, quella sul campo della Battipagliesi. Eh sì, ho visto che comunque è il primo anno che faccio la Serie D e queste due partite ho notato che anche la squadra che può sembrare più scarsa si mette lì a battagliare, a correre, quindi per una squadra come noi che con un po' di ritardo, che non è una scusante, però è un po' più tecnica rispetto a qualche altra squadra e fa un po' di fatica. Però sono molto fiducioso perché siamo un bel gruppo, c'è entusiasmo, tra virgolette, nonostante tutto, dobbiamo un po' chiuderci le orecchie e pedalare con la speranza di risolvere più presto questa situazione. Che idea ti sei fatto dal tuo arrivo a Taranto di questa squadra? No, io sono venuto consapevole, ho aspettato un po' perché giustamente volevo rientrare nel giro della Lega Pro. Per un po' per una cosa, un po' per un'altra, mi sono convinto di venire a Taranto e sono venuto con l'ospicio giusto. E quindi appena ho visto questa squadra, io sono convinto che può far bene. Altrimenti, dico la verità, non mi sarei neanche messo in una situazione del genere. Io ho visto la squadra, ho parlato con la società, che è una società seria, e quindi ho accettato di sposare questo progetto. Vice Domini, cosa può dare a questo gruppo? Io darò il massimo, darò il massimo di come ho sempre fatto ogni anno. Al di là della categoria non mi interessa, ho rispetto per questa gente. So, ho passato sulla mia pelle tanti problemi l'anno scorso, quindi c'è soltanto da rimettersi in gioco e cercare di fare bene. Io metterò tutto me stesso, la mia qualità e la mia grinta, poi sarei il campo a parlare. Bisogna voltare pagina al più presto, domenica battipaglia può essere secondo te l'occasione giusta? Sì, ormai ogni domenica è quella giusta, perché già doveva essere domenica, che a mio avviso abbiamo giocato a una porta. Se mettevano la porta nostra a metà campo era uguale. Però domenica andiamo lì, è un campo difficile, conosco quelle zone abbastanza bene, ci aspetterà una battaglia cercando di portare il risultato positivo. Grazie.